messaggio agli agenti immobiliari italiani che lavorano in italia se ci riconosci qui a super savvy travelers sai che attraverso i nostri sforzi di marketing abbiamo creato un enorme mercato per l'immobiliare italiano in calabria in particolare nella nostra riviera dei cedri in calabria abbiamo avuto un enorme successo e i nostri associati vendono proprietà ai nostri clienti felici da più di un anno la grande notizia è che abbiamo creato un modello per gli agenti immobiliari italiani e possiamo duplicare i risultati ovunque in italia tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono ottimi agenti con cui lavorare e possiamo aiutarti a far crescere la tua area il nostro canale youtube super savvy travelers llc e il nostro facebook e altri social media hanno raggiunto tutto il mondo e hanno portato persone che amano l'italia e vogliono crearsi una casa qui per se stessi queste persone cercano casa e hanno un disperato bisogno di buoni agenti con cui lavorare in qualità di associato riceverai da noi contatti che abbiamo lavorato e sviluppato se sei un agente immobiliare autorizzato in italia e sei interessato a entrare a far parte del nostro team e lavorare con noi come associato inviami un'email a info chiocciola super savvy travelers punto com da lì possiamo darti tutti i dettagli del programma associati e come funziona grazie e speriamo di vederti presto